voglio farvi incuriosire 35 resorts e residenze Happy Mag si trovano in prossimità di campi da golf per un totale di 150 campi ce n'è uno adatto ad ogni handicap e ad ogni stagione ad esempio qui a Massimo, uno dei paradisi del golf Happy Mag in Spagna il nostro resort si trova al centro del campo da golf su uno straordinario altopiano le ricche infrastrutture sono costruite nel completo rispetto dell'architettura del luogo in qualità di soci Happy Mag approfiterete di molti vantaggi come sconti sui green fee, corsi di golf, settimane di tornei e altre offerte speciali